Carcere ed errori giudiziari e riforma della giustizia all'Italia, un bivio, il tema del convegno che si terrà oggi a partire dalle 17.30 presso l'ex palazzo municipale di Taurianova. L'iniziativa cade a ridossa dello sciopero degli avvocati penalisti previsto nella giornata del 10 aprile che proseguirà fino al 14 aprile un'astenzione dal lavoro da parte dei legali per contestare e criticare i casi di estinzione dei processi per intervenuta prescrizione. L'incontro a Taurianova vedrà la partecipazione di illustri ospiti, tra cui Rita Bernardini della Presidenza del Partito dei Radicali Italiani, Sergio Delia, segretario di Nessuno Tocchi Caino, Giampaolo Catanzariti, avvocato e componente del direttivo della Camera Penale di Reggio, Ilaria Mendolia, giornalista e direttore della Riviera, Antonino Napoli, avvocato e tesoriere della Camera Penale di Palmi, Luigi Longo, editore di Approdonews, con il saluto del sindaco Fabio Scionti e infine Armando Veneto, avvocato e presidente del Consiglio delle Camere Penali Italiane. E proprio l'illustre legale di Palmi e già sottosegretario alle finanze, deputato ed eurodeputato, spara a zero sulla riforma in corso di approvazione alla Camera dopo il sì del Senato che prevede l'allontanamento dall'aula di giustizia dell'imputato. L'avvocato Veneto lancia l'allarme sulle condizioni della procedura processuale sulle carceri, parla di una lunga marcia di avvicinamento dei settori più autoritari che abbiamo in Italia verso un processo centralizzato di proprietà dei pubblici ministeri, affermazioni forti da parte del penalista. Ma sentiamolo al nostro microfono. Veneto è finita la lunga marcia di avvicinamento dei settori più autoritari che abbiamo in Italia verso un processo centralizzato di proprietà dei pubblici ministeri e in conseguenza un processo che esclude, come è previsto dalla riforma in corso di approvazione alla Camera, dopo essere stata approvata dal Senato, l'allontanamento dall'aula di giustizia dell'imputato. Basta questo per dire che siamo in presenza di un bivio e il guaio è che è stato imboccato, è già superato il bivio, è stata imboccata la strada che porta al disastro della democrazia del processo penale. Giorno 10 inizia questo sciopero, è uno sciopero in tutta Italia. Come si articolerà questo sciopero e quali sono i motivi che vi hanno spinto allo sciopero di giorno 10? I motivi? Noi protestiamo formalmente per l'allontanamento dalle aule di giustizia dell'imputato. Il processo a distanza ormai è diventato il tipo fondamentale di processo, ma quando manca il contatto tra il giudice e l'imputato manca il processo perché manca quella parte della punizione che lo Stato riserva giustamente ai suoi poteri, nella quale parte si esercita l'individuazione dell'entità della pena, il vero ministero di chi giudica, perché chi giudica non può essere una macchina, ci metti dentro la domanda e ti esce la risposta, è un uomo. Papa Francesco lo ha detto, bisogna usare la misericordia, che non significa perdono, significa comprendere le ragioni dell'uomo, della vittima e dell'imputato, applicare la giusta pena e se necessario condividere le sofferenze di chi quella pena subisce o di chi quella pena accetta come risarcimento del danno che ha avuto. E poi per l'allungamento dei termini di prescrizione che sono un piccolo imbroglio istituzionale per allungare il tempo del processo, anziché per ridurlo come si assume. E poi perché il diritto vivente che accentra le funzioni legislative e giurisdizionali in capo al potere giudiziario è andato anche al di là, perché non è soltanto intervento sulle norme per giustificare la radicale e ferma l'applicazione delle stesse, ma anche perché si pretende così di combattere la dura battaglia contro la mafia, la criminalità organizzata. Battaglie giustissime, ma che non si fanno col processo, si fanno mettendo lo Stato in condizione di farsi comprendere come amico dei cittadini. E dove è l'amicizia ai cittadini? Quando nella nostra provincia è stato distrutto il tessuto economico e la filiera della produzione dei beni e dei servizi attraverso la sistematicità con la quale viene distrutto ogni angolo di ogni impresa economica che viene realizzata. Questi sono i temi ai quali i cittadini si devono affezionare, perché la sicurezza, la pace sociale non si realizza con le manette, non si realizza con l'aggravamento delle pene. Chi delinque non mette in conto che può scontare la pena. E quindi qui ci vuole un altro tipo di giustizia e un altro tipo di pena, se possibile. Dov'è la giustizia riparatrice che fa rendere conto a chi ha commesso il delitto di quanto sia grande e importante cercare il perdono della vittima? Dov'è la giustizia moderna che prevede non necessariamente il carcere e la privazione di libertà in una condizione nelle quali le carceri sono nient'altro che delle galerie tornate all'antico, dove i buglioli sono molto meno del necessario, dove non ci sono le docce garantite, dove c'è un affastellarsi di umanità che non trova alcuna logica spiegazione, dove vengono messi i cittadini in attesa di giudizio che devono stare insieme ai tossicodipendenti, agli spacciatori di cocaina e così via di seguito. Uno Stato che non pensa a questo non è uno Stato moderno. Ci siamo noi, c'è l'avvocatura che assume la responsabilità e siamo gli unici a farlo, di scioperare non per noi ma per gli altri, perché siamo gli unici che prestiamo giuramento per poter svolgere la nostra funzione, perché siamo soggetti politici e dobbiamo renderci conto che siamo operatori sociali, per questo noi scioperiamo.